Ok, aspettiamo le foto. Per le coppie il giudice Paolo Tartaro. Pastore tedesco. Jack Russell. Alaska Malamute. Shiba. Black and Town Conound. Gascogne. Setter irlandese. Daimaraner. Carlini. Afgani. Afgani. Allora, vediamo adesso il movimento della costruzione. Allora, si dá ne change. Cosa starme l'em 동안ini è? Quels censes le punte durante i mesi. Cosa starme l'emburgliare? Cosa starme l'emburgliare? Dio. Adesso nasce il movimento della costruzione. Allora, vediamo adesso il movimento della costruzione. Una coppia di pastori tedeschi e due Jack Russell l'Alaska Malamut la coppia di Shiba i Black & Dunk On Hound una razza di Segugi americani e Gascogna i Black & Dunk On Hound 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, allora, a centro ring la coppia di Shiba, Carlini, Pastori Tedeschi. Grazie agli altri. Allora, andiamo di là. Allora, ecco il pastore tedeschi. I Shiba. E i Carlini. Allora, ci siamo al terzo posto i Carlini. Al secondo posto Shiba vincono i Pastori Tedeschi. Ok. Allora, andiamo. Allora, andiamo.